T.S. T.S. Un lavoro. Se non ce lo date scrivici se non ce lo date se non ce lo siamo disposti a vafficciare la macchina è opportuno la casa è opportuno da casa scrivo opportuno da casa punto da casa punto due punti ma non ci ne tre che facciamo meglio allora siamo disposti pure a seguire a Milano perché c'è a Cuglione il sindaco si sbatta i pallaltamenti c'è scritto i pallaltamenti perché? allora quindi dicetono voi c'è scritto dicetono voi che cazzo 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 siamo cristiani che abbiamo studiato la terza media e il compor Peppino era pure la terza elementare quindi vedete che cazzo 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 io cazzo 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 a casa perché ho fatica quindi poi mi ha dato voi l'alloggio per me curcare per me curcare per me curcare torna scrivete il voto che capisci allora che cazzo mi cominciamo? io sono un onesto lavoratore onesto lavoratore 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 poi mi compara mio l'italiano lavoratore va tranquillo lavoratore qua un finale cazzo ma ora è proprio bello sto scrivendo si è suscettibile però scriveteci pure sappiamo dove abit e i piccoli dove vanno all'asile quindi se ne fanno cazzare ti cominciamo un stupino